La nostra compagnia, Grandi Nave Veloci, è una delle principali compagnie di navigazione italiana che opera nel mercato dei passeggeri e delle merci rotabili nel mar Mediterraneo. La continua evoluzione del mercato ci ha portato ad evolvere il nostro approccio al mercato adottando una gestione del deployment molto più flessibile. Per gestione del deployment si intende l'abbinamento delle capacità nave, ne abbiamo diverse e con diverse caratteristiche nella nostra flotta, alle esigenze che di volta in volta si generano sulle singole rotte da noi esercite. Questo ovviamente per riuscire a cogliere nella maniera più efficace le opportunità commerciali che il mercato ci fornisce. Nel gestire questa nuova metodologia di approccio ci avvaliamo di strumenti e di metodi tra i quali SAS, che ci consentono di conoscere molto più approfonditamente il nostro cliente sia da un punto di vista socio-economico e culturale sia da un punto di vista dei comportamenti di acquisto. Questa più approfondita conoscenza del cliente ci consente di riformulare la nostra offerta e di ridefinire in maniera organica le attività aziendali attorno al cliente, cucendo attorno al cliente quella che è l'offerta ottimale per lui in modo da incrementare il valore che noi riusciamo a derogare alla nostra clientela. Ulteriore aspetto accanto all'offerta è il miglioramento, è uno dei nostri obiettivi nell'ambito del progetto che stiamo portando avanti insieme a Value Lab e agli strumenti forniti da SAS, è il miglioramento della customer experience. Quindi un miglioramento che passa attraverso un'attivazione di nuovi canali di contatto, innovativi, meno innovativi, ma che ci consentono di raggiungere il cliente durante ogni momento del ciclo di acquisto e di seguirlo nelle fasi di pre-vendita, post-vendita e addirittura post-imbarco. L'ulteriore obiettivo che ci prefiggiamo nell'ambito del progetto che stiamo implementando è un miglioramento dei processi decisioni all'interno, non solo connessi alla gestione del cliente ma anche connessi alla gestione della capacità nave una volta che questa è allocata, andando a monitorare in maniera più rapida ed efficace quelli che sono i livelli di saturazione raggiunti in modo tale che l'offerta possa essere continuamente adeguata per consentirci di mettere a disposizione della clientela la miglior offerta disponibile in quel momento.